Il trasferimento paventato del mercato da Piazza Duomo a Piazza 20 Settembre, come lo vede lei? Mi sembra un bel ritorno anche alle origini. Eh sì, direi di sì, comunque era molto gradevole anche questa piazza, non so se è compatibile con le esigenze parrocchiali, però insomma è un bel aspetto, è un bel vedere in ogni caso. Noi ci sposteremo perché ormai ci avevano detto che avremmo dovuto spostarci, quindi eravamo pronti a spostarci. Non so se comunque ci sposteremo in ogni caso, credo di sì, solo che sono saltate fuori delle problematiche con i camion grandi che devono entrare in piazza e essendoci un'entrata sola non riescono a entrare tutti e due in simultanea. Quindi dovrebbe entrare prima uno, scaricare, uscire, poi entrare l'altro, sono quei due bilici della frutta e verdura, tra l'altro scaricare, uscire e dopodiché entreremo noi quei furgoni più piccoli. Ascolti, dipende dalle situazioni del traffico perché è inutile parlare, se qui siamo in zona ZTL e di là c'è difficoltà ad arrivare, dobbiamo pensare alle persone che lavorano. Meglio di là? Meglio di là? Sì, 10 giorni. No, no, è più piazza di mercato. Per me va benissimo ovunque, solo che di là teniamo il furgone dietro al banco che è più comodo, tutto qui. Qua è molto più pratica per muoversi, per mettere giù le cose, più movimento e più tutto. Poi si è nati di là, si torna di là. Per noi andrebbe bene perché lavoriamo bene sia qui sia in piazza 20 Settembre. Diciamo che il cliente comunque è sempre fidelizzato. Sì, sì, direi proprio di sì. Dopo anni che facciamo il mercato, sì, siamo contenti della presenza. Che sta andando? Bene, bene. Per i tempi che corrono, per la crisi o comunque quello che c'è, i consumi tengono. Siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti.